continuiamo il viaggio attraverso gli apparecchi di ricezione e trasmissione oggi affrontiamo un argomento curioso ma molto importante e soprattutto molto innovativo negli anni in cui è stato inventato la filo diffusione che cos'è la filo diffusione è una modalità di trasmissione di segnali audio attraverso il doppino telefonico attraverso la rete telefonica una sorta di antenata dsl per capirci un po come avere una rete internet tanti 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 anni fa 1931 questa è la data importante in cui in svizzera vengono avviate le trasmissioni della filo diffusione svizzera in italia poi le sperimentazioni avrebbero inizio non tanto dopo nel 1958 per poi diventare trasmissioni stabili a gennaio 59 la rai appunto aveva iniziato ad utilizzare questo standard molto interessante perché consentiva di arrivare nelle case di tutti gli abbonati del telefono di avere una buona qualità quindi non c'erano disturbi perché avveniva tutto via cavo e poi avere dei programmi dedicati alcuni senza interruzioni altri canali a tema insomma una sorta di offerta di trasmissione di canali molto innovativa e molto avanti per gli anni in cui si parlava sempre bene a fare il contesto storico perché le cose come avete visto negli ultimi 20 o 30 anni sono cambiate tantissimo per trasmettere in queste frequenze in queste gambe si utilizzava una porzione di banda che diciamo è più o meno quella delle onde corte da 150 kilohertz fino a 350 quindi siamo proprio nelle onde corte infatti molti ricevitori molte radio potevano essere collegate effettivamente attraverso un apposito trasduttore alla linea telefonica per ascoltare la filo diffusione quindi sintonizzando con la lancetta potevamo mettere i vari canali però per ascoltare la filo diffusione gli apparecchi che ebbero un grande successo erano questi qua questi piccoli apparecchi qui siamo negli anni 70 ovviamente questo è un filo diffusore un ricevitore della philips già con la stereofonia perché alcuni canali si potevano ascoltare in stereofonia in un modo al tanto semplice ovvero sintonizzando contemporaneamente due frequenze una serviva per il canale destro e una per il canale sinistro quindi in un modo davvero molto facile questo è l'apparato diffuso negli anni 70 spesso si metteva vicino all'impianto stereo perché questo ovviamente andava collegato ad un impianto dietro c'è l'uscita che poi andava messa all'amplificatore e qui si poteva selezionare come vedete le varie i vari canali erano 5 i canali della filo diffusione quindi si poteva scegliere 1 2 3 4 5 e così via e 6 perché appunto c'era il canale stereofonico quindi si potevano scegliere tutte le varie opportunità il display è molto carino è la valvola nixi che si illumina come vedete al passaggio di gamma e ci dà il numero del canale che stiamo ascoltando non serviva fare altro perché come avete visto basta collegare questo apposito cavo alla spina telefonica c'era ovviamente una spina tripolare con l'adattatore e poi dietro ovviamente andiamo a vedere la parte del retro vediamo le connessioni con il din 5 poli canale destra e canale sinistro direttamente all'impianto questo controllo serviva per la centratura della stereofonia finché i canali fossero separati correttamente per avere un'audizione ovviamente migliore e con questo piccolo apparecchio potevamo ascoltare tutti questi canali in realtà la rai sta continuando a trasmettere in filo diffusione anche oggi per esempio a milano e in alcune altre grandi città finché ci sarà uno o due abbonati ancora iscritti a questo servizio la rai dovrà mantenere ancora attiva questo questo standard però ovviamente purtroppo è destinata alla chiusura anche perché ormai abbiamo internet abbiamo la dsl tutta una serie di servizi che nel tempo hanno reso questa tecnologia molto obsoleta beh difficile da utilizzare perché è stato sempre monopolio rai quindi nessuno poteva trasmettere su questi canali per cui è stato un esperimento davvero ben riuscito perché se pensiamo negli anni 60 avere una qualità altissima in casa non era così scontato per cui è stato uno dei primi apparecchi che consentiva tutti quanti di beneficiare dell'ascolto via cavo quindi poteva essere questo il lancio di una struttura di una radio via cavo cosa che poi è successa negli altri paesi come per esempio la svizzera che ha lanciato anche la radio via cavo quindi distribuendo dei segnali nelle case di tutti i cittadini quindi è una comodità ma soprattutto l'ascolto in assenza di disturbi cosa che appunto poi negli anni 60 e 70 si faceva sentire perché stavano uscendo tutte le radio piccole no le radio libere e così via quindi per togliere tutti i disturbi per non avere problemi anche di ricezione magari chi abitava lontano col telefono si riusciva a raggiungere veramente tutti quindi la filo diffusione oggi abbiamo scoperto questo spaccato anche di storia della nostra nazione che passa attraverso la radio in questo caso attraverso i fili del telefono